Una delle eccellenze della bella Sicilia è questa riserva naturale Parco del Belice. Qui dove c'è la foce del fiume Belice arriva il mare e questo mare come vedete ha tre tipologie per poter prendere il sole, infatti potete scegliere se andare alle dune o andare alla pineta o ancora nella più classica sabbia. Questo significa ricchezza di turismo, questo significa stare bene in uno scenario naturale, incontaminato e storico. Serinunte è una delle colonie più antiche della Sicilia, a sud ovest, sul canale di Sicilia, il parco archeologico più grande d'Europa, Acropoli, Tempio, ma anche questo Residence che vi presentiamo, che a pochi passi al mare, a 250 metri e 90 metri quadri questa casa, in questo Residence di nuova costruzione, guardate l'ampiezza di questo salone e ovviamente il sole che permea da ogni angolo della strada. Seguitemi perché innanzitutto dovete sapere che tutto quel che è notato in queste immagini è tutto incluso proprio nel pacchetto, quindi è incluso il mobilio. Usciamo da questo ampio salone e siamo in questa ampissima terrazza, pensate che cosa significa per esempio in calde notti d'estate poter accennare in una terrazza come questa, anche il tavolino e le sedie ovviamente sono incluse. Rientriamo, notate anche gli infissi che sono tutti in legno e dall'altra parte del terrazzino abbiamo questa enorme cucina compresa di componibili e pensate anche di lavatrici. Insomma è veramente un prezzo finale quello che avrete a vostra disposizione. Rientriamo quindi in maniera circolare sempre ancora nel saloncino e esploriamo le due camere da letto e i bagni. Entriamo nella prima camera da letto, grandissima anche questa vista a luce proprio con un'altra persiana che ci dà l'illuminazione giusta. Vediamo anche passando da questo piccolo corridoio questo piccolo bagno, questo importante bagno con tanto di doccia e questa seconda camera da letto, ancora una volta persiana, ancora una volta luce, 250 metri dal mare, 5 minuti a piede insomma potete arrivare. Il parco archeologico più grande d'Europa e il calore della Sicilia. Qui questa è una tipologia con bagno in camera ma in genere i due bagni sono attaccati l'uno dopo l'altro. Vi ripeto ancora, 90 metri quadri a 6 minuti. Al fine di farvi vedere ancora di più di questo residency vi voglio mostrare il giardinetto interno. Bellissimo il decoro con queste palme da dattero, queste palme tipiche dello scenario siciliano, molto tranquillo dove veramente potete godere delle calde giornate d'estate con la frescura invece che un giardino del genere o che un ambiente del genere vi può dare. E questa è una tipologia di appartamento con un accessorio se volete in più, cioè il doppio terrazzo. Oltre al terrazzo che infatti avete appena visto c'è questo terrazzo che è molto importante. Immaginate per esempio che cosa significa stare sotto questo gazebo, pranzare, cenare, ricevere gli ospiti ma soprattutto immaginate che cosa significa vedere il mare bellissimo della Sicilia.